Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate perché sto per annunziarvi la verità del Vangelo. Sì, perché l'Evangelo è la parola di verità, così la Sacra Scrittura definisce l'Evangelo e quindi l'Evangelo non è una verità o una delle tante verità di cui parla il mondo come se ce ne fossero tante di verità, no, ma l'Evangelo è la parola della verità. L'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, cioè l'unto del quale il Dio aveva preannunziato la venuta in questo mondo venuta che si sarebbe poi nella pienezza dei tempi verificata perché questo il Dio aveva preannunziato che avrebbe mandato il suo Cristo, cioè il suo unto, per salvare i peccatori, per salvare il mondo e quello che Dio predice quello poi manda ad effetto. Quindi coloro che in Israele circa duemila anni fa stavano aspettando il Messia, lo stavano aspettando, cioè il Cristo, lo stavano aspettando proprio in virtù delle promesse che Dio aveva fatto tramite i suoi profeti. Doveva venire nel mondo il Cristo, che era il figlio di Dio e doveva appunto venire nel mondo per redimere i peccatori, per salvare i peccatori. Da che cosa? Dai loro peccati. Dunque, il Cristo doveva venire nel mondo per morire per i nostri peccati e poi doveva risuscitare il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Ora, per quanto riguarda la sua morte espiatoria, il profeta Isaia, uno dei profeti antichi, aveva detto del Cristo, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Per quanto riguarda invece la resurrezione del Cristo, Davide, che era anche lui profeta, l'aveva preannunziata in questi termini, dicendo in un salmo, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Parole naturalmente che pronunziò Dio e che concernevano la resurrezione del Cristo. Come anche queste parole furono scritte da Davide che concernevano la resurrezione del Cristo. Tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Ora, queste parole concernenti il Cristo si sono adempiute in Gesù di Nazareth, e di Nazareth perché fu allevato in una città della Galilea chiamata Nazareth, mentre lui invece nacque a Betlemme, che era in un altro punto di Israele, Betlemme di Giudea, perché appunto il profeta aveva in terra di Giudea, perché così il profeta aveva detto e tu è Betlemme, terra di Giudea, non sei appunto la minima fra le città principali di Giudea, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Dunque, nacque a Betlemme e poi fu allevato a Nazareth, quindi fu chiamato Gesù di Nazareth, o era anche chiamato Gesù Nazareno o il Nazareno. E dunque proprio questo, Gesù di Nazareth è il Cristo, cioè il Messia, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e poi apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Egli dunque dimostrò di essere risuscitato dai morti, facendosi vedere dai suoi discepoli, facendosi toccare, mangiando e anche bevendo con loro dopo la risurrezione. Questo è di fondamentale importanza appunto perché conferma che il Signore Gesù Cristo è veramente risuscitato dai morti. Dunque la buona novella è questa, questa è la parola di verità, e questa buona novella è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco. Perché? Perché nella buona novella è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede, secondo che è scritto il giusto vivrà per fede. Dunque la parola di verità che ti ho annunziato è potente a salvarti, sì, a salvarti, perché hai bisogno di essere salvato in quanto sei schiavo del peccato e quindi hai bisogno di essere affrancato dal peccato. Non ti puoi affrancare da te stesso, dal peccato, hai bisogno del Salvatore, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, perché è Lui il Salvatore del mondo. Lui è venuto per ordine degli Dio e Padre Suo nel mondo per salvare il mondo. Quindi, credendo nell'Evangelo che è la parola delle verità, sarai salvato dai tuoi peccati. Non solo salvato dai tuoi peccati, ma anche giustificato, quindi reso giusto, appunto perché il giusto vivrà per fede. Poi otterrai la remissione dei tuoi peccati. Perché? Perché di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. E poi otterrai la vita eterna. Perché? Perché c'è scritto chi crede ha vita eterna. Quindi sarai sicuro di, quando morirai, di partirti dal corpo e di andare ad abitare col Signore. E quindi sarai strappato dalle fiamme dell'inferno dove sei diretto. Sì, perché devi sapere che sei diretto all'inferno. La via che stai calcando porta in perdizione, cioè all'inferno. C'è un luogo di tormento che aspetta i peccatori dopo la morte. È un luogo di tormento perché c'è il fuoco che arde e là sono tormentate le anime dei peccatori. E tu stai andando in quel luogo. Quindi, credendo nell'Evangelo, sarai strappato dalle fiamme dell'inferno. Sì, strappato. Quindi, per questo, per questo ti esorto, ti esorto a ravvederti e a credere nell'Evangelo. Rendi di conto che credendo nell'Evangelo, ottenendo appunto la vita eterna, sarai sicuro quando morirai di dibattirti e di andare ad abitare col Signore. Rendi di conto perché appunto sarai strappato dal fuoco dove sei diretto. Quindi, non ti illudere, sei tu pecatore sulla via della perdizione e ciò che ti aspetta è un orribile fine. Quindi, per quello ti esorto a ravvederti e a credere nell'Evangelo, nella parola della verità, affinché il Signore abbia misericordia di te come l'ha avuta come l'ha avuta di me e di tanti e di tanti altri. Quindi, non indugiare, affrettati e ravvediti, credi nell'Evangelo, ricordati, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza ad ogni credente del giudeo prima e poi del greco. Non c'è un altro messaggio nel quale credendo tu possa essere salvato. Non c'è. Non c'è sotto il cielo non c'è un altro messaggio credendo nel quale tu puoi essere salvato. Non c'è qualcun altro all'infuori di Gesù sotto il cielo nel quale tu credendo tu possa essere salvato. Ricordati, ricordati questo, l'Evangelo di Cristo Gesù solo l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. Quindi, ravvediti e credi nell'Evangelo e il Signore ti salverà. Chiaro è chi da udire? Oda. Grazie a tutti.